Oggi voglio fare un esperimento. Siamo in un luogo almeno. La ripresa è in un posto anonimo, senza topografie o toponimi che caratterizzano un luogo. Diciamo che siamo in un campo dovunque, potremmo essere qui in terra, in cielo, in ogni luogo, un posto senza identità. Ho questo panaro, ho delle freselle, ho degli alici al peperoncino, ho della rosa marina o bianchetto, ho dell'olio e del vino. Così. Prendiamo le acciughe, togliamo l'isca. Prendiamo il bianchetto e lo spalmiamo. Sempre con peperoncino perché è il conservante dei contadini, dei poveri. Questo con il filetto d'acciughe. Prendiamo con questo olio qua. Così, in questo luogo anonimo, senza toponimi che lo caratterizzano, abbiamo una fresella di pane duro, degli alici sotto peperoncino, conservati al peperoncino, riscati su questa fresa. Un'altra fresa con la neonata o a rosa marina al peperoncino, condito con l'olio extravergine d'oliva e farò questo aperitivo con vino rosso locale. Perciò, quello che voglio cercare attraverso questo video di far passare, se non altro, c'era un filosofo, un certo Feuerbach, che diceva, una sua massima filosofica, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Io lo voglio spostare o almeno lo voglio cambiare e cercherò di portare avanti questo progetto, se mi è possibile, attraverso la vostra collaborazione, se mi aiutate e collaborate in questo progetto. Io viaggio e sono nel mondo restaurazione da sempre e mi piace girare il mondo e adesso sto girando questo mondo che è mio, ovvero la Calabria. Io non vado in largo e in lungo, io non vado per superficie, io vado dentro perché la Calabria è la mia culla, perciò io vado dentro. Cerco attraverso il viaggio di non camminare sulla superficie e basta, ma voglio andare dentro la memoria della Terra, dentro. Perciò è un viaggio che è più in lungo e in largo, in superficie, è un viaggio dentro. Ecco, il viaggio dentro. E ritornando alla massima filosofica di Feuerbach, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, voglio cambiarla in dimmi cosa mangi e io ti dirò dove sei. Dimmi cosa mangi e io ti dirò dove sei. Adesso vi porto dove io sono con questo mursiello. Mursiello che non è nostro, è un derivato catanzarese, sono poi dialettizzato in morso, che sarebbe la colazione campestre dei contadini. Perciò vi porterò nel luogo, nel topico di dove sono, attraverso un mursiello con arice salate, rosa marina, un buon extravergine d'oliva e berrò un buon vino locale. Vi dirò dove siamo, attraverso quello che sto mangiando.